Solo voglio ringraziare tutti per questa serata, per i supporti, speriamo di fare una grande spazio. Passa a Roma! Sì, buonasera a tutti, voglio ringraziarvi anch'io perché insomma fa piacere venire queste serate, a vedere l'affetto e l'amore che c'è nei confronti di questa società, non solo per Roma ma non per tutta Italia, insomma parlando con il Presidente ha detto che non ci sono solo club a dire e quindi è ancora meglio perché dimostra la grandezza e la passione che c'è per questa società. Poi per quanto riguarda il campionato sicuramente faremo il nostro meglio e dobbiamo fare una grande stagione. Ciao Aldo!